La pandemia scoraggia anche la visita ai propri defunti. Poche le persone che si sono recate al cimitero di Poggio Reale a Napoli, normalmente soprattutto di questa giornata, affollatissimo. Quest'oggi si presenta così, deserto. Una ricorrenza molto cara ai napoletani, ma che nel 2 novembre del 2020 non è stata celebrata come al solito. Sono i fiorai a dare una chiara fotografia della giornata. Siamo stati aperti con la vendita, però era quasi zero. Così, come vedete la situazione, nessuno è venuto. Dobbiamo ringraziare il sindaco di Napoli che era rimasto il cimitero aperto, però le persone sapevano che come in tutti i cimiteri dei paesi stavano chiusi, si pensavano anche che quello di Napoli era chiuso. E che la gente si è messa paura di venire al cimitero. A celebrare la ricorrenza nella cappella del cimitero, la messa ufficiata dal Cardinale Sepe. Troviamo tutti quanti come in una barca che sta solcando un mare che è in tempesta a causa di questa pandemia. Il vero pericolo, la vera epidemia sarebbe quella di calare le mani e non reagire. E invece di fronte al male, come qualsiasi altro male, dobbiamo alzarci in piedi, direi, tenerci mano per mano.